3, 2, 1, Bungie! Io non cambierò mai Ciao a tutti ragazzuoli, questo è SESPO e oggi siamo con un nuovo vlog E che vlog? Perché oggi siamo arrivati a 500.000 iscritti Infatti questo è lo speciale 500.000 iscritti che guardate Oggi per lo speciale farò il Bungie in Jumping Veramente ragazzuoli, grazie a tutti Grazie a tutti voi che mi supportate, che mi seguite su tutti i social Continuiamo così, grazie a tutti, vi amo SESPO'S FAMILY Siamo una famiglia, facciamo un bambino Chiamiamolo un milione e poi guardiamolo crescere Quindi adesso, per la prima volta nella mia vita farò il Bungie in Jumping Questo Bungie in Jumping è di circa 60 metri È un'esperienza che io già volevo fare E adesso lo farò per i 500.000 iscritti Mi raccomando, lasciate un like per supportare questo video E per supportare il canale Abbiamo fatto metà milione, però adesso pensiamo a fare il Bungie in Jumping Muore Mi raccomando, se che fai break, non fare il break e stacco il filo del Bungie in Jumping No, tranquillo Sinceramente io non vedo l'ora perché è una cosa che voglio troppo fare So pronto, so pronto Ma inizia ad allenarti Flessione Perché faccio sul serio Oh, siamo più alti della gru, eh? Io dico solo questo Cosa? Eh, bro, stiamo arrivando, eh? Stiamo dicendo, non è che vuoi parlare al posto Nooo Allora, bisogna avere 18 anni, quindi Troppo Non posso Sennò l'avrei fatto, eh Allora, facciamo una cosa Appena fai 18 anni lo fai anche te Dammi la mano, amicizia Vai Amicizia Vai Perché l'ho dato, raga? Lo fai e io ti vengo a riprendere Ok Oh, ma sono finito i pescani, eh? No, ma infatti Allora, a me mi hanno detto Il trucco è non guardare giù Quindi sapete cosa facciamo? Ok Wow Siamo arrivati finalmente, dai Mi raccomando, eh Non guardare giù La mia successa è che qualcuno si è staccato al piede Esiste sempre la mia volta L'unica cosa importante Ricordati è che quando si salta Si salta Non si torna indietro Non fare che tu inizi a cadere Non tu molli le mani E ti aggrappi da qualche parte, no? Un bel respiro E poi vido Si vola, eh Dai che ci siamo, caro Un bel respiro E meno 3 2 1 BANDI E' figo perché Il tempo che sali Fai sempre tutte le battute, eccetera Arrivi là tutto sicuro Beh, appena ti metti là e fai così Dici Aspetta un attimo Fammi pensare Fammi ragionare Però è una cosa molto figa Che la consiglio a tutti Quindi mi raccomando Se siete maggiori anni Fate anche voi budget jumping Perché è una cosa veramente figa E anzi, mi sa che a breve Lo farò un altro Perché mi sono divertito veramente molto E comunque ricordiamo Grazie per i 500.000 iscritti Ora verso il milione A casa prima mancava il pane Mamma racconta un altro milione